Il mio grande amico è un'azienda leader nella ricerca del pomodoro ma anche in particolare dei portinnesti. Questo programma lo abbiamo iniziato nei primi anni 2000 e oggi abbiamo una gamma molto interessante formata da Interpro, Superpro, Calipro e l'ultimo arrivato è GoPro. Questi portinnesti si contraddistinguono perché hanno tutta una resistenza importante per i nematodi, la suberosida radicale che è la penedocheta licopersici, il fusarium radicis fusarium licopersici e dobbiamo dire che oggi il prodotto di punta dei portinnesti della nostra gamma è Interpro. È un prodotto universale che viene utilizzato su tutte le tipologie di pomodoro dando dei risultati eccezionali sia dal punto di vista agronomico sia dal punto di vista della protezione delle fitopatologiche dei parassiti tellurici.